Ciao a tutti ragazzi, io sono Tasei e benvenuti in questo diciannovesimo episodio di LPG Martian, sempre in copia, insieme a Umi Kasai Ciao a tutti ragazzi Umi, dove sei? Eh, sono nel nuovo mondo, sto uccidendo il water qua Allora siamo nel nuovo mondo ragazzi, vi avviso abbiamo perso un po' di Ypoint, perché hanno cambiato, Gamehosting ha cambiato l'IP del 7, quindi diciamo che per adesso non mi ricordo come si cambiava i Ypoint, l'IP, quindi per adesso non rimaneremo così Allora andiamo nel nuovo mondo, andremo a gesturare quest'ultimo Uli? Dimmi Mi è droppato questo il tipo Quale? Non so cosa sia, con la U non fa niente Collector Fragment, penso che bisogna darlo tipo ai villaggeri, prendi tu, vabbè prendo io Guardate quanti villager ci sono qui Andiamo Vai vada Eh, ho capito un villager, povero, scusami Oh Cristo, c'è uno verde, c'è uno verde C'è questo un villager? Ah sì, ok Sì, ok, anche qua c'è un villager Arcanium, arcanium Dovamo trarci arcanium? Sai che questo è uno, mi sa, che è uno dei più pericolosi, questo dungeon, eh? Sì, penso anch'io Oh, c'è un tizio C'è un tizio? Quello, quello non è buono Ah sì, sì, fa buba, ahia Dai, 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 dai Ahia, no, 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 Ishi Madonna Oh, fa, 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 fa Ma si è morto? No, 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 son vivo, son vivo Sono giusto a sopravvivere grazie alla Massivens Oh, ora c'è un tizio qui dentro, eh Oh, sei un po' bugato, figliolo mio Giusto un po' mi dicono, eh Ma io lo sto colpendo, Uli Ah, vero? Questo colpisco Eh sì, usa l'ancor Aspetta, proviamo a salire un attimo Metti dei, dei cosi Questo si può, non si può spaccare niente qua Eh, ma qua Ah, aspetta, aspetta, forse ho trovato come si entra Aspetta Eh, vedi? Vado, aspetta Mezzo d'Uliss Saliamo e uccidiamo Quanto qua si non attaccano Ciao piccoli amici Intanto non morire Attento Aspetta, Uli Spostati un asemmino Scusa Allora, ok, è preciso Andiamo a dire che tavolo c'è qui dentro, va Hai delle, delle robe, tipo? Le robe Qualcosa per salire? Perché ho finito, tipo, tutta la terra Non è il massimo No, niente Nulla di nulla Ragazzi Sponchillo un po' Iniziamo col dire che non mi ricordo nulla Ciò che dobbiamo fare Anzi, più che altro so cosa dobbiamo andare a fare Dobbiamo andare a fare un piccolo oggetto Che si fa con tanti diamanti Tanti diamanti ormai sono inutili Che lancia un fulmine Mi hanno detto che le va tantissimo Quindi lo prenderemo subito Ma questi non li sponchigliamo così? Ahia, mi ha colpito qualcuno da dietro Qualcuno è salito perché uno di questi è Com'è che si chiama, Uli? Quell'oggettino? Non lo so Fai con la U su... Sul diamante Sul diamante E al massimo Io pure io Arrivo a vederlo Allora Vediamo che ci troppa Ci troppa questa roba Che non ho ancora capito a che serve Sai Servirà per i villager lì Eh ma non ho visto nessun utilizzo per ora Allora Diamond Ma quanti ce ne sono, mio Dio? Vabbè ce ne sono alcuni Porti abbastanza Il... Il Serenade Striker? Eh sì Mi ha fatto appuccio dalla gente qua 5 diamanti, Uli Beh sì, quanti ne abbiamo? Uno stack e mezzo Mi sa Ah, buono Vabbè lo faccio Tanto è easy Non... Fa le due Teleportation Crystal Eh, fai anche quello Quello mi... Mi ispira anche a me Ho visto anch'io Volevo vedere che cosa faceva 8 Ender Pearl 8 Ender Pearl Cioè abbiamo 8 Ender Pearl Provo a vedere Se riesco a fare anche qualcosa, va? Mmm Io infatti lo sto sponchillando Lo so che è noioso Però, boh, mi devo uccidere Ma sono troppi Ah, prima qua Tanto Uli Non so Dobbiamo studiarci Col mondo Ti ho già letto Sei per caso dove abbiamo L'Ender Pearl, Ulisse? Ok, riaccomi Con un trattempo Sei per caso dove abbiamo L'Ender Pearl? Eh, non lo so In una di quelle chest Probabilmente Questo sono sicuro Io sto un attimo sponchillando Comunque voglio vedere che cavolo si armano Speriamo danno qualche arma Perché se no, boh, stiamo uccidendo così a random Per caso Ender Pearl Ender Pearl Nulla con la R non li farà ripristinare Non so che servono Sinceramente Eccoci Uli Allora, ci facciamo qualcosa di sparafulmini? Sì, andiamo a fare cosa che sparafulmini Che è tipo qui dentro, ok Aspetta, allora Non solo craftarlo Ah, crafto anch'io Tu fane due Ne faccio uno Ne faccio due Ah, boh, ne faccio solo uno, allora Allora, faccio così Ecco qua Se hai dei strike, ragazzi Ah, ce l'hai già, ok Vuole provarlo Andiamo a uccidere qualcuno Vediamo quanto leva Precisa E' un piccolo gigante Oddio, che figata Cos'hai fatto, mio Dio Parato Andiamo Oh, mio Dio Cos'è? Ah, boh, 10 li hai tolti Neanche tanto Però Diventa fortina dopo un po' l'arma Se continui a fare così Esatto Se lo spammi fa male Vabbè Oltre questo comunque Una cazzatiella così Eh, davvero Sì Mi accanisco contro una pecora Io voglio farmi gli spade figa Vole più carina adesso Ad esempio Ci sono quelle del veteran Che sono fantastiche Una cosa che possiamo farci Tipo La La sword Come si chiamava quella sword? Quale, quale, Uli? Oggi c'è un'altra vite L'altra vite Però la dravite c'è anche Solo un sacco Farlo Non dovremmo avere Bicone con efficienza No, con fortuna Eh, sì, sì Ce l'ho più Fortuna 2 Io direi Andiamo a trovarne un po' di quelli Va Però avevamo anche un po' di fortuna 3 Eh Boh, io per adesso c'ho fortuna 2 Vado con fortuna 2 Oh, è entrato veloce nel mondo E qua dentro? Sì, lì dentro era Attento ai banni Che erano abbastanza forti Oh, cavolo Che cosa dobbiamo prendere? Ah, il materiale Sì, il materiale Qualcosa che tipo Berluccicava Era carino Quello so Ok Oh, cavolo Un cuore Devo ribituarmi a Tipo Rivivere No, ho sbagliato Anche tu stavi Coprando vita No, ho sbagliato Che stavo Volevo mangiare Pronto Muori Beh, prima che lo consigli così Dagli un colpetto di spada Fa prima Infatti Butalo giù Dai e scendi Bravo Favamo in giro, va Allora Ho campito ancora un unicorno Sono crudele Ok No, lascio un unicorno Cerco la roba Ancora sto tranquillo Ahia, stronzo Ahia Ma do sti cori che ti sponchiano, vero? Allora vado a trovare altre cose Vediamo Appena ci facciamo l'armatura Una delle cose più semplici da fare al momento Beh, non è più semplice Dobbiamo farci quella che vola Eh E appena ci facciamo quella Sicuramente poi andremo molto meglio Perché potremmo anche esplorare bene questo mondo Esattamente Con il momento non la conosciamo tantissimo bene Eh, beh, tutto l'isola e ragazzotti Non ne possiamo fare più di molto Perché altro? Quanti ne abbiamo ancora di quelle cose? Zero, mi so Che cosa? Di Bluestone No, non ne abbiamo neanche usato uno Mi sembra No, abbiamo fatto l'Arcana E abbiamo usato con due, mi sa Però non ricordo se abbiamo Lasciato un po' Oppure no Guardate una cosa, ma Ci metto un sacco a rompere sta cosa qua Madonna sti cori qua Non ce ne sono più, mi sa, qui vicino Quindi diciamo che Non è un'ottima idea esplorare ancora Cavolo I danni alla caduta si fanno sentire Dobbiamo ancora finire l'armatura Eh sì, l'armatura Perché io ricordo con l'armatura di Elite Realmente Abbiamo da Abbiamo protection da Dalla caduta Esattamente Vai, cadi piccolo Non subisci danno In teoria Ciao Oh, il cuore è morto Non so perché Però boh Ah, c'è ne ho dato alcun'altra cosa Ste bistecche Eh, vanno cotte Eh, sì, esatto Ma guarda Ci capiamo Sì, ma ne hanno detto anche Oh, 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 oh Ne hanno detto anche a me Ne hanno detto Però non ho capito bene come si Tutti i coniglietti Della gang del bosco qua Mi vogliono attaccare Eh, beh, se tu li vai attaccare Mi sembra giusto Non l'ho fatta a post Ero con l'hankor qua Ok, però qua c'è un attimo la bistecca Vediamo che ci dà Raw Empowered Meat Empowered Yeah, figo Empowered Raid Meat Ma il The Watcher Qual era quello gigantesco, giusto? Sì, quello che abbiamo ucciso Nel più senso del precedente No No, no, no Quello era l'altro boss Ok, sto cuocendo Non ho ben capito che cosa mi dà Ah, Cooked È uguale, non cambia nulla Però ti dà Dieci younger, Umi Ah, io È tantissimo La cosa La bistecca Eh, sì Eh, sì, lo so La bistecca cotta Allora, The Hunter Se non sbaglio È quello che ci dà Il The Watcher, cioè Eh, vi faccio watching guy Che vuoi trovare nel mondo Dovevo andare un po' in giro a cercarlo Nelle caverne, sai? Perché è tipo un mob fantastico strano Che ci servirà per droppare i blue fire Abbiamo 4 blue fire stone 4 blue fire stone Ok Possiamo farci l'armatura per forza Ci servono 3, 6, 9 Se siamo l'11 a testa Tantissimi 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 Come si fell out of the world? Come hai fatto a cadere? Ma dai Eh, boh, volevo tornare a casa Allora Eh, ti cadi così Cos'è che dobbiamo fare, Uli? Eh, dobbiamo trovare Un mob Che è tipo fantastico Aspetta, ma Azzurrite? Ci siamo andati nell'azzurrite, no? Dove? Azzurrite Aspetta Azzurrite block Poi si prende un'azzurrite block Azzurrite Ah, no, ok Per andare in un'azzurrite Bisogna fare l'azzurrite portal Però non ho ben capito come si fa Mmm Ci sono le armi figa Allora che poi sono tutti uguali Ma sarà come clock, no? Perché se tu scrivi clock Sì, lo so Noi siamo andato Eh, c'è il moon clock Essendo tutto blu Come l'azzurrite block Sarà lì, no? Eh, non lo so Non ci siamo ancora andati lì Sinceramente Potrebbe vedere Però come si crafta Eh, non si crafta Quale il problema? Quindi Mmm Wiki Vieni, vieni a noi Aspetta, ma c'è una porta Perché c'è una porta tipo alla fine Della cosa? Cosa c'è alla fine là? C'è una porta Guarda C'è una porta di legno Tipo Non so perché E' messa Quo c'è anche il secchio figo Oh, c'è una spada C'è una spada Che leva 82 Una spada che leva 82 Sì 2000 Come si chiama? Augite e Blade Si fanno Penso che bisogna andare in Augite Nel mondo Augite No Blaze Scrivo Blaze Faccio prima Oh, figo Puoi fare anche tipo il formaggio Il bacon No, ripetimi come si chiama? Augite Ah, Augite Ah Qua non so la spada Quanto leva Adesso Ah, Blade 76 mili Da my age Ma è questo fortissimo E come si va in sto mondo? Aspetta un secondo Che sto prendendo un atto L'acquatico Mi Sai che possiamo tornare a farci l'acquatico Che ha 10.000 usi? Oh, l'ender Oppure andiamoci a fare l'ender Anzi Allora, un'idea sarebbe andare a farci l'ender Solo che dobbiamo andare a trovare dei blades Giusto? Quante abbiamo di l'ender? L'ender cosa? Nell'ender No, ma quale è l'ender? Che cosa dobbiamo fare con l'ender? Che hai detto? Dobbiamo farci l'ender? Ender's World Ci hanno detto che si trova lì dentro Ah, sì, sì Sono tantissimo nel land Quindi potremmo andare a cercare Tanto abbiamo 10 ender shards Che sono pochissimi Cioè È una cosa più semplice al momento Allora, mi ha aiutarsi tutte le Un'emil di Vine Show Divine Show Show 32 Di Come si chiama? No, 35.000 usi Ah, madonna È tantissimo 35.000 usi C'è anche la fornace figa Che voglio capire bene come si fanno Sicuramente Adesso non c'è nemmeno il crafting Chi è che crafta il Divine Shard? Il Divine Shard? Quale? Aspetta Voglio vedere chi è che Ah, ce l'abbiamo Ce l'abbiamo un po' Ce l'abbiamo Ce l'ho di troppa qualcosa gigante Sai Ah Ne abbiamo 5 Ah, perché abbiamo una Divine Sword Con 28 di melee damage Ci vogliono 5 Divine Stone Non Divine Stone 9 Divine Shard No, sono 4 Non nemmeno 5 A vedere che possiamo anche killarli Ah, 4 Quando faremo il live Visto che domani No, ok Lunedì saremo in live Noi Romy Sì Ok E quindi sarei tutti felici Out Ma qua sull'RPG Quindi dovremmo smettere di registrare Esatto Eh, boh, dai Lo facciamo in live Dovemmo uccidere un po' di qua Lì ci facciamo la Divine Stone E chiederemo anche consigli ai nostri cari amici Come continuare Dovemmo fare anche la stanza Probabilmente in live Nei portali Perché poveretti Sono messi un po' In modo strano Eh beh Bruttini Esatto Ma sai cosa possiamo fare adesso? Cosa? Andare a raccogliere Andare a giocidere qualche ciclope Delle caverne Eh, dove le trovi adesso Siamo già 15 minuti mi sa Vabbè, vieni in caverna No, in caverna ci siamo, ok Possiamo anche chilarlo adesso Eh, sì, cioè che ci siamo Abbiamo messi waypoint Però comunque Sappiamo dove C'è la fine La caverna sotto casa Era, non è che Dovemmo siamo l'elite L'elite capellino Sì, era di qui o mi vieni Qui c'è l'acqua Era di qui Ah, apposto Qui c'è la piccola amica Ahia, stronzo Ti one shot Non potrà morire comunque Eh, bravo Non funzionare nei fulmini In caverna Eh, e come E come se funzionano Sì Me l'ha sputato in faccia Me l'ha sputato Oddio Vabbè, io stopperei Perché mi hanno suonato Anche a citofano Al prossimo video Ragazzi Allora, ciao a tutti Ciao a tutti ragazzi